e Paul comprese la futilità dei suoi sforzi per modificare anche il frammento più impercettibile di ciò che accadeva. Aveva pensato di potersi opporre da solo al jihad, ma il jihad vi sarebbe stato, comunque. Le sue legioni si sarebbero scagliate con furia fuori Arrakis anche senza di lui. Avevano soltanto bisogno di una leggenda, e lui era già una leggenda. La citazione è da Dune, famosissimo romanzo di Frank Herbert del 1965. Attualmente nelle sale c'è la seconda parte dello splendido adattamento di Villeneuve, ma l'episodio di oggi sarà un po' diverso dal solito, ovvero non farò il classico dal libro al film parlando del romanzo e dei suoi adattamenti. Chi segue abitualmente la trasmissione sa che di solito faccio questo format dal libro al film, anche se non l'ho mai chiamato così, però nella sostanza è questo. Quindi parto da un romanzo o da un autore, e poi vediamo come quest'opera si è sedimentata nella cultura, che cosa ci ha lasciato, e quindi passiamo anche agli altri mezzi, specialmente alle trasposizioni cinematografiche. Oggi però non voglio fare questa cosa, perché il romanzo trovo che si presti molto bene, il primo Dune parlo, a alcune riflessioni e anche a tornare su alcuni temi trattati qui in trasmissione, quindi preferisco cambiare un po' l'approccio e concentrarmi più sui temi che su lo sviluppo dell'opera dalla carta fino al cinema. Dune è una space opera divenuta un classico della fantascienza e non solo. È un classico della letteratura a tutti gli effetti che affronta tanti temi interessanti e qui ne vorrei affrontare qualcuno e fare qualche riflessione in merito, in modo da acquisire qualche strumento utile dall'opera di Herbert. I temi in questione saranno quello delle macchine pensanti, le intelligenze artificiali, di una polemica che ha riguardato il film di Villeneuve, anzi due, io le considero uno solo perché di fatto parte 1 e parte 2 costituiscono un'unica opera. Parleremo di credenze e falsi messia. Poi, verso la fine, questo sarà un episodio doppio, quindi nella seconda parte passeremo alla questione del come e perché le storie, i miti, le leggende, le credenze e le convinzioni si formano e si radicano nella società e perché le peggiori sono tanto dure a morire. Abbiamo già toccato questo argomento, a dire il vero, in un episodio della scorsa stagione intitolato Il lato oscuro delle storie. Vi lascio il link in descrizione se volete recuperarlo. Vale la pena tornarci su questo argomento perché è interessante e anche importante a dire il vero e attuale. E poi si collega bene con Dune e magari i nuovi ascoltatori non conoscono questo argomento, non hanno ascoltato il vecchio episodio, quindi è sensato tornare sul tema, ovviamente sotto un'altra prospettiva e con un altro punto di vista. Nella prima parte farò una introduzione alla ricca e complessa ambientazione di Dune in maniera che l'episodio risulti comprensibile anche per chi non abbia letto il romanzo. I film di Vilnev sono abbastanza aderenti al primo romanzo entro i limiti delle possibilità di un film. La lore del romanzo è assai ricca e complessa e nessun film riuscirebbe a comprenderla tutta senza sfociare nel sequestro di persona. Non so se nella terza parte se la farà Vilnev riuscirà a colmare tutte le lacune che per ora ci sono nei suoi film, tanti elementi di ambientazione che finora non ha inserito. Vedremo. vedremo anche che alcune differenze con il romanzo ci offriranno ottimi spunti di riflessione per il nostro tema e credo che Vilnev abbia centrato per certi versi lo spirito del romanzo di Herbert, il suo intento e ovviamente ha portato alcune modifiche in parte per renderlo più gestibile in un'opera limitata come un film che non può durare all'infinito, non può avere tutto lo spazio che magari è facile avere con un romanzo. D'altra parte secondo me ha anche limato riso più chiari ed evidenti alcuni punti con i cambiamenti che poi vedremo. Poi sicuramente ha trascurato invece tante altre cose ma d'altra parte credo che la mole dell'ambientazione imponesse una qualche scelta e forse concentrarsi solo su alcuni punti è stata una buona scelta. Chiaramente poi gli appassionati del romanzo ci vedranno un sacco di buchi e mancanze però forse rendere tutta la lore, tutta l'ambientazione del primo romanzo sarebbe riuscita in una serie tv meglio di almeno 10 ore e con un alto budget, budget alla trono di spade o alla rings of power qualcosa del genere con una scrittura migliore degli anelli del potere ovviamente. Chi non ha letto il romanzo troverà oggi alcune informazioni utili sulla lore di Dune che magari chiariranno alcuni aspetti del film. Non potrò dire tutto della lore di Dune altrimenti vengono due episodi che si concentrano solo su quello. Non basterebbero comunque a spiegare tutta la lore di Dune e immagino che in giro per la rete ci sia materiale aiosa quindi non vedo un senso nel fare una sorta di wiki radiofonica sulla lore di Dune. Ovviamente se volete conoscere tutti i dettagli dell'ambientazione di Dune vi rimando al romanzo stesso che è una grande opera e merita di essere letta. Sì vi rimando proprio al romanzo piuttosto che ha vari video di spiegoni che tanto ce ne saranno appalate in rete ma leggere l'opera comunque è meglio. In primo luogo perché come dicevo Dune è un grande classico della letteratura e poi perché leggendo il romanzo uno può anche entrare meglio dentro i personaggi, l'ambientazione, i temi che l'autore affronta. Prima di entrare nel vivo dell'episodio vi ricordo gli appuntamenti con il Gatto Rosso che sono tutti i venerdì in diretta alle 18 su Radio Svolta. Le dirette si possono ascoltare sul sito della radio che è radiosvolta.it e poi gli episodi rimangono disponibili in podcast sui principali distributori, qui cito Spreaker e Spotify fondamentalmente. Fatta questa lunghissima premessa entriamo nel vivo del discorso. Come dicevo questa è la prima parte di un episodio doppio in cui affronteremo vari temi che stanno nel romanzo di Herbert, nel primo. Diciamo anche qualcosa sull'opera per chi non la conosce. Dune è un romanzo di Frank Herbert uscito in due parti sulla rivista Analog, ex Astounding Stories che poi ha cambiato nome tante volte, è uscita nel 1963 e nel 1965 con i titoli Dune World e The Prophet of Dune. Sempre nel 1965 il romanzo è poi uscito in volume unico con il titolo Dune, che è quello che tutti conosciamo. Gli anni successivi, fino al 1985, sono usciti altri cinque romanzi in cui continuano le vicende dei personaggi del primo e poi dei loro discendenti. Ma vedremo anche un altro motivo per cui Herbert ha scritto il secondo romanzo e l'intento non era solo quello di proseguire una saga, ma era anche perché un certo tema, alcuni temi del primo romanzo erano stati ampiamente fraintesi dai lettori e quindi lui ha sentito la necessità di chiarire alcuni aspetti di ciò che diceva nel primo romanzo in un secondo rendendoli più espliciti e lo vedremo meglio più avanti. Non è necessario leggere tutti i romanzi, alla fine del primo libro comunque si chiude un arco narrativo e il lettore non è lasciato in sospeso con una trama tronca, anche se diciamo cella ampiamente per un seguito. Personalmente ho letto solo i primi due romanzi e già nel secondo si vede un calo rispetto al primo, c'è meno ciccia e in parte appunto vi dicevo Herbert ripete e chiarisce meglio alcune cose che erano state fraintese dal primo libro e non è che si introducano tante novità, quindi l'ambientazione poi quella ovviamente è, rimane sempre la stessa, da lì poi io non so ma mi immagino un calo nella ciccia nei romanzi successivi. Brian Herbert, il figlio di Frank, ha poi continuato l'opera del padre scrivendo una quantità imbarazzante di prequel a Dune insieme allo scrittore Kevin James Anderson, però qui sinceramente non mi sono mai avventurato, non lo farò, questi romanzi hanno uno scopo essenzialmente solo commerciale. Peraltro Kevin Anderson è prettamente un autore commerciale, lui ha scritto alcuni romanzi di Star Wars di cui se non erro tre ne ho letti che sono ambientati dopo episodio 6, quindi dopo il ritorno dello Jedi e all'epoca ancora non c'era in vista l'ultima trilogia, però insomma ecco sono solamente romanzi commerciali, Anderson ecco è un autore tutto sommato più che onesto, però il lavoro del figlio credo che scompaia completamente rispetto a quello del padre che invece aveva affrontato un sacco di bei temi succulenti nel suo romanzo come vedremo nel corso di questo episodio doppio. In questo episodio doppio mi limiterò ai primi due romanzi di Frank Herbert quindi ovvero Dune e il messia di Dune e poi mi ricollegherò ai film di Villeneuve. Dune e in generale l'intera serie di Herbert hanno influenzato profondamente l'immaginario fantascientifico a partire da guerre stellari che tanto deve alla saga di Dune. Facciamo qualche esempio, Tatooine, il pianeta che si vede subito all'inizio di episodio 4, è desertico e è sostanzialmente il pianeta di Arrakis. Il Sarlacc ricorda tantissimo i vermi giganti di Dune. Poi il Jedi Mind Trick, quello che fa Obi-Wan ad esempio agli Stormtrooper, questi non sono i droidi che voi stare cercando, ecco quello è ripreso palesemente dal potere della voce che hanno le Bene Gesserit. E ce ne sono poi tanti altri esempi, in descrizione vi lascio un link dove qualcuno più paziente di me ha stilato una lista di cose che Lucas ha ripreso da Herbert e potete vedere che ce ne sono un bel po'. Possiamo dire che Dune sta alla fantascienza come il Signore degli Anelli sta al fantasy. Entrambe queste opere hanno una lore molto corposa e anche Dune alla fine ha le sue brave appendici che riguardano ad esempio il clima, l'ambientazione, la religione e un glossario dai termini. E vi assicuro che per chi non ha letto il romanzo magari si può trovare un po' superchiato. In effetti questa è anche un po' l'impressione che danno i film di Villeneuve, questo bombardamento di termini che sono tutti presi ovviamente dai romanzi e che all'inizio veramente creano credo un po' di confusione per chi non sa nulla di Dune. Parliamo allora un po' dell'ambientazione. Questo episodio può anche essere utile per chi non conosce per niente Dune e magari può farsi un'idea di che cos'è in maniera ovviamente molto superficiale più che altro per capire se è un qualcosa che può interessare e quindi un qualcosa da approfondire. L'opera è ambientata in un lontano futuro, varie migliaia di anni nel futuro rispetto a noi. L'umanità si è espansa in tutto l'universo, organizzata in un impero cosmico con caratteristiche feudali. Vediamo infatti duchi, baroni e grandi casate nobiliari. La società è caratterizzata da una miscela di elementi medievali, tecnologici e mistici con le grandi casate che governano interi pianeti. Parliamo della tecnologia perché qui troviamo uno dei temi interessanti di cui voglio parlare. La tecnologia nella saga di Dune è molto avanzata. Vediamo infatti astronavi e mezzi di trasporto avveneristici, fucili laser e scudi energetici per la difesa personale e non solo. Ma, e questa è una delle caratteristiche principali dell'ambientazione, non vi è traccia di robot computer o ya. Perché? La mancanza di computer, intelligenze artificiali e macchine pensanti nell'universo di Dune è il risultato diretto del jihad battleriano, un evento cruciale avvenuto circa 10.000 anni prima degli eventi del primo libro. Il jihad battleriano fu una rivoluzione su scala galattica contro le cosiddette macchine pensanti che l'umanità percepiva come una minaccia alla propria libertà e esistenza. Il jihad portò alla istituzione di una legge fondamentale nell'universo di Dune. Non si fabbricherà una macchina a immagine della mente umana. O simili la trovate anche con leggere varianti questa legge. Ad esempio, non si fabbricherà una macchina che contraffaccia la mente umana. Ok, però il concetto è quello. Questo divieto ha rimosso quasi completamente quindi la presenza di computer, AI e qualsiasi forma di automazione avanzata nella società, spingendo l'umanità a sviluppare al massimo le proprie capacità mentali e fisiche e portando quindi non solo conseguenze tecnologiche ma anche culturali. La proibizione delle macchine pensanti ha portato allo sviluppo di scuole e ordini dedicati all'ampliamento delle capacità umane. Vediamo i principali. I Mentat. Questi sono umani addestrati per fungere da computer viventi capaci di elaborare informazioni e calcoli complessi a livelli sorprendenti. I Mentat, detti anche computer umani, non sono un semplice sostituto dei PC con una capacità di calcolo sovrumana. Sono abilissimi nell'analizzare enormi quantità di dati, metterli in relazione e nello studiare le persone analizzando anche le loro microespressioni facciali. C'è poi la sorellanza Bene Gesserit. Sono donne addestrate a controllare il proprio corpo e la propria mente a livelli estremamente raffinati, inclusa la manipolazione degli altri attraverso il tono della voce. Ne parleremo meglio tra poco. Poi ci sono i Navigatori della Gilda. Sono esseri umani mutati dall'esposizione alla Spezia, di cui parleremo tra poco, che hanno sviluppato la capacità di vedere i percorsi sicuri attraverso lo spazio, rendendo possibile il viaggio spaziale senza l'uso dei computer. Sono gli unici in grado di compiere i viaggi nello spazio e la Gilda, che ha in sostanza il monopolio sui trasporti, è gelosissima dei navigatori, che infatti vediamo solo nel secondo libro. Nei film di VinDev per ora non compaiono, mentre si vedono nel film di Lynch. Sono quegli esseri strani che vivono in quella sorta di vasche, sono un po' tutti capoccia e si vede poi nel film di Lynch uno di loro, diciamo non in una scena molto entusiasmante, che però riesce a impostare queste rotte attraverso i suoi poteri mentali e dei raggi che gli escono dal naso. Vabbè. L'assenza di macchine pensanti ha influenzato profondamente lo sviluppo tecnologico e la struttura sociale dell'universo di Dune. La tecnologia esistente tende ad essere una diretta estensione delle capacità umane piuttosto che sostituti autonomi. Questo ha anche contribuito a mantenere strutture sociali feudali e ha portato a una certa stagnazione innovativa, poiché il progresso tecnologico non è spinto dall'automazione, ma dall'addestramento e dalla capacità umana. Qui Herbert essenzialmente si ricollega al fatto che buona parte dell'accelerazione nel progresso tecnologico, che c'è stato negli ultimi sostanzialmente due secoli o poco più, è stato spinto tanto dall'automazione, nei processi produttivi, industriali, eccetera. Qui già incontriamo un primo tema succoso. Herbert introduce il jihad battleriano e il divieto di macchine pensanti come una riflessione sul rischio che l'umanità diventi obsoleta a causa delle sue stesse creazioni. Dune esplora molto il valore dell'umanità, delle sue capacità uniche e della necessità di preservare e sviluppare queste capacità contro l'abdicazione del controllo a entità non umane. La dipendenza dall'intelligenza e dalle abilità umane rafforza il tema del potere personale rispetto al potere delegato alle macchine. In Dune, il vero potere risiede nella capacità umana di comprendere, manipolare e prevedere il comportamento altrui, nonché di controllare se stessi a livelli profondi. Questo tema è di una attualità incredibile, considerando che il primo romanzo è del 1965 e all'epoca non solo non c'erano le intelligenze artificiali, ma non c'era nemmeno la presenza dei PC dentro le case delle persone. L'idea di Herbert è ancora più notevole se si pensa che in Dune lui non pensa ad uno scenario post-apocalittico alla Terminator o alla Matrix in cui ci sono le macchine che si ribellano agli uomini e danno il via ad una guerra. In Terminator addirittura lanciano le testate nucleari degli esseri umani contro gli stessi umani facendoli piombare veramente in uno scenario apocalittico un po' alla Okutono Ken. Herbert piuttosto fa una riflessione sull'importanza dell'umanità, il rifiuto di delegare la creatività e il pensiero alle macchine. Il tema come dicevo è molto attuale perché in effetti lo scenario alla Terminator o alla Matrix è molto improbabile, può funzionare su un film sicuramente, su un fumetto, su un prodotto di fiction, è affascinante, anche abusato devo dire, però poi nella realtà non ci saranno intelligenze artificiali che si ribelleranno e prenderanno il controllo. Il rischio magari oggi è che le persone, essenzialmente per pigrizia, deleghino la creatività alle intelligenze artificiali e smettano di avere fiducia nelle capacità umane, nella nostra intuizione, nell'inventiva. Il rischio è che si smetta di coltivare la propria umanità, l'intelletto, l'interiorità, perché tanto fanno tutte le macchine. È comodo, indubbiamente, noi possiamo stare beati, tranquilli sul divano a guardarci Netflix o altre piattaforme e a bingiare serie tv e film che sono stati creati con le app, perché tanto ne consumiamo a pacchi, siamo di bocca a buona, tutto sommato basta che ci intrattengano. Ecco che viene completamente sminuita l'arte, la creatività, eccetera. Quindi il rischio che personalmente vedo è questo e probabilmente è anche quello che aveva intuito Herbert pur non vedendo lo scenario attuale. Una curiosità, in Dune non è mai spiegato da dove derivi il termine battleriano riferito al Giad, né Herbert si è mai sbilanciato in proposito. Ora magari questa cosa potrebbe esserci nei romanzi del figlio con dei personaggi se non erro che si chiamano battler di cognome, però ecco quel materiale arriva dopo. Il termine potrebbe derivare dal romanzo Erewon di Samuel Butler pubblicato nel 1872. Butler era uno scrittore ovviamente e in Erewon immagina un mondo in cui l'umanità decide di proibire le macchine per paura che queste possano superare l'intelletto umano evolvendo autonomamente in macchine coscienti in grado di autoreplecarsi. Butler, detto molto molto in soldoni, seguiva una sorta di teoria dell'evoluzione di Darwin però applicata alle macchine che quindi lui immaginava potessero eventualmente seguire un loro percorso evolutivo in cui superavano l'intelletto umano e potevano quindi replicarsi da sole. Quest'opera di Butler potrebbe aver influenzato Herbert nella creazione del jihad battleriano come monito contro appunto la dipendenza eccessiva dalla tecnologia o il termine battleriano potrebbe quantomeno essere un semplice rimando e una citazione di Erewon. Herbert cita tante cose e questa potrebbe essere una di quelle. Non sono l'unico a pensare in questo modo però non ci sono prove in merito e comunque non ci sono da parte di Frank Herbert. Vediamo meglio cos'è la spezia che abbiamo nominato poco fa. La spezia o melange è una sostanza che si trova solo sul pianeta desertico di Arrakis, il pianeta dune quello che dà il titolo all'opera. La spezia è legata ai famosi vermi giganti e si raccoglie dalla sabbia del deserto. Ovviamente qui non vi sto a raccontare tutto il processo legato alla spezia, alla sua origine, alla raccolta eccetera. Limitiamoci alle cose fondamentali. La spezia ha proprietà uniche che permettono di prolungare la vita, potenziare le capacità mentali e soprattutto rendere possibile il viaggio spaziale. La spezia è quindi la risorsa più preziosa dell'universo, al centro dei conflitti politici e delle dinamiche di potere. L'imperatore assegna il pianeta Arrakis come feudo ad una casata affinché questa lo sfrutti per garantire una profigua raccolta di spezia a tutto l'universo. Grazie alla spezia è possibile ampliare le proprie facoltà mentali e avere visioni e proprio dall'uso della spezia deriva la notevole capacità di preveggenza di Paul Atreides, oltre che ovviamente dall'addestramento a cui è stato sottoposto. Questo aspetto delle visioni e delle facoltà mentali è chiaramente legato alla cultura lisergica degli anni 50-60, poi anche un po' dopo, però ecco il romanzo è uscito nel 65. Quindi qui ci possiamo ricollegare alla Beat Generation che parte un po' prima, però gli autori di quella generazione lì erano ancora tutti vivi quando Herbert ha scritto il romanzo e quindi c'è di mezzo questa assunzione di sostanze che ampliano le capacità mentali, espandono la mente e questo rimanda chiaramente all'utilizzo di acidi eccetera. Comunque il tema è molto presente nel romanzo e ci sono abbondanti scene di visioni soprattutto da parte del protagonista che è Paul Atreides. La sorellanza Bene Gesserit che avevamo nominato poco fa. Che cos'è? Le Bene Gesserit sono una potente e misteriosa sorellanza composta da donne che hanno perfezionato il controllo del proprio corpo e della propria mente attraverso secoli di addestramento rigido. Questo addestramento conferisce loro abilità che a molti appaiono come poteri soprannaturali, come la manipolazione tramite la voce, una profonda comprensione della psicologia umana e la capacità di controllare il proprio ciclo riproduttivo fino a determinare il sesso del nascituro e questa cosa è fondamentale come vedremo tra poco. Le Bene Gesserit non sono semplicemente osservatrici degli eventi cosmici, esse attivamente plasmano la politica e la religione dell'universo conosciuto. Parte del loro potere deriva dall'abilità di influenzare le credenze religiose di molteplici culture preparando il terreno per la realizzazione di profezie che loro stesse hanno contribuito a diffondere. E qui già veniamo al tema che poi sarà il centro della seconda parte dell'episodio. Le Bene Gesserit conducono un sofisticato programma di accoppiamento con l'obiettivo di produrre un essere supremo, il Kwisatz Haderach. Chi è questo Kwisatz Haderach? È un maschio che possa accedere agli spazi della memoria genetica inaccessibili alle stesse Bene Gesserit e a navigare nel tempo futuro. Quindi è un essere superumano che ha accumulato quindi poi tutta la memoria genetica, tutta la banca dati, tutte le conoscenze delle Bene Gesserit e ha poteri di preveggenza e non solo sconfinati quasi. La sorrellanza si muove nell'ombra da secoli, un po' come il consorzio su X-Files, proprio giusto per darvi un'idea alla buona, e mira al controllo dell'universo, cosa che attuerà appunto tramite il Kwisatz Haderach, che dovrà quindi nascere al momento giusto. La nascita di Paul Atreides, il protagonista appunto del primo e anche del secondo romanzo, e il suo emergere come figura messianica, non è un caso ma il risultato di secoli di manipolazione genetica e di diffusione di credenze studiate a tavolino. Va detto che Lady Jessica, amante del duca Leto Atreides e madre di Paul, avrebbe dovuto generare una femmina come la regola Bene Gesserit impone a tutte le sue sorelle per portare avanti le necessarie linee di sangue. E questa cosa andava fatta perché queste linee di sangue vanno portate avanti fino al momento giusto in cui il prescelto dovrà venire alla luce e non prima. Lady Jessica contraviene all'ordine e mette al mondo un maschio che a destra per giunta alla via Bene Gesserit. E lei lo fa essenzialmente un po' per compiacere il duca Leto, anche un po' probabilmente per orgoglio ed egoismo personale. Fatto sta che il suo gesto mette in moto la profezia prima del tempo, essenzialmente una generazione prima, e ne sottrae il completo controllo al resto della sorellanza. La religione gioca un ruolo chiave sia nelle credenze dei fremen, che sono questi fremen lo vedremo tra poco, sia come mezzo di manipolazione a fini politici. Le questioni di fede, la predestinazione e il ruolo dei leader religiosi sono temi centrali in Dune. Parliamo meglio di questa profezia. Una tattica chiave utilizzata dalle Bene Gesserit è la missionaria protettiva, un programma progettato per inserire elementi di profezie e credenze in varie culture. Questo crea un ambiente in cui una Bene Gesserit, trovandosi in situazioni pericolose, può sfruttare queste credenze preimpiantate per la propria protezione o per manipolare soprattutto la popolazione locale, essenzialmente a scopi politici. In Dune, questo concetto è cruciale per l'accettazione di Paul e Jessica tra i fremen di Arrakis, che vedono in Paul la realizzazione della loro profezia, vedono in lui un messia, che loro chiamano il Lisan Al-Ghaib. Sul pianeta Arrakis le credenze religiose dei fremen sono state influenzate dalla missionaria protettiva, predisponendo la popolazione a ricevere Paul come il loro messia. Questo non solo facilita l'ascesa al potere di Paul, ma sottolinea anche come le Bene Gesserit abbiano giocato un ruolo di lungo termine nella storia dell'universo di Dune. Parliamo dei fremen, che abbiamo già nominato. Costituiscono uno dei due gruppi in cui è divisa la popolazione di Arrakis. Sono anche detti i Rinnegati del Deserto, perché appunto vivono principalmente nel deserto al di fuori delle città e dei centri urbani. Una delle loro caratteristiche principali sono gli occhi azzurri causati dal prolungato uso della spezia. Un'altra è il ruolo centrale che l'acqua gioca nella loro cultura, considerata un bene assai più prezioso della spezia. E questo è ovvio, visto che vivono nel deserto. I fremen si sono specializzati nello sfruttare e riciclare ogni più piccola goccia d'acqua ed hanno sviluppato tecnologie molto raffinate a tale scopo. Vivendo nel deserto vedono il loro territorio perennemente sfruttato per raccogliere la spezia. La casa degli Arkonen, rivale di casa Atreides, è particolarmente aggressiva e ostile nei confronti dei fremen. E gli Arkonen erano quelli che avevano il controllo di Arrakis prima che questo controllo passasse agli Atreides. Qui ovviamente si inseriscono temi di ecologia e colonialismo. Dune, tra le tante cose, è un'opera ecologista e parla ovviamente di colonialismo. Alcuni aspetti dei fremen, della loro cultura e del loro vocabolario sono ispirati dal mondo arabo e medio orientale. Ciò non vuol dire che ci sia per forza una corrispondenza uno a uno tra tutte le varie vicende del romanzo e i vari elementi di lore del romanzo e la realtà del nostro mondo. Questa è una cosa che sottolineo, magari per alcuni può essere banale, però vedo che ci si casca di continuo che siccome il romanzo mutua alcuni aspetti dal mondo primario, il nostro mondo, allora vuol dire che è tutta una gigantesca allegoria o metafora del nostro mondo e quindi c'è una perfetta corrispondenza in ogni pagina con le vicende del nostro mondo. Non è così. Perché allora Herbert ha fatto una scelta simile se non voleva fare questa corrispondenza uno a uno tra mondo secondario e mondo primario? Potrebbe inventare tutto da zero, no? La sua ambientazione e le culture dei vari popoli che abitano in questo universo. Mutuare alcuni elementi della lore, dell'ambientazione da culture, lingue e regioni geografiche realmente esistenti permette a un autore di snellire il lavoro di worldbuilding con riferimenti che il lettore può facilmente cogliere senza essere subissato da interminabili spiegoni e descrizioni. Il lettore in sostanza in questo modo entra prima nell'ambientazione. La scelta di Herbert è del tutto comprensibile se pensiamo a quanto è già corposa e complessa la lore del romanzo. Senza questa scelta credo che l'opera sarebbe risultata più farraginosa alla lettura. Ecco il motivo di prendere alcuni elementi dal mondo arabo e medio orientale. Qui accenno alla trama principale per chi non la conosce. La storia segue le vicende della famiglia Atreides, in particolare del giovane Paul Atreides, quando prende il controllo di Arrakis. Paul nel film di Villeneuve è interpretato da Timothée Chalamet. L'arrivo su Dune è però frutto di una trappola tesa dalle casate rivali, in particolare da quella degli Arkonen e dall'imperatore stesso, che vedono in Leto Atreides una minaccia al potere stabilito. Ora, in cosa consiste questa minaccia varia tra il romanzo e il film. Gli Atreides sono traditi e attaccati dalle forze dell'imperatore e dalla casa Arkonen, che sono i precedenti governatori di Arrakis, e le forze dell'imperatore sono i Sardauwer, e nel film si vedono bene, sono rappresentati in maniera molto efficace. Questo evento porta Paul e sua madre Lady Jessica, Rebecca Ferguson nel film, nel deserto dove incontrano i Fremen, appunto. Dopo una iniziale diffidenza i due verranno accolti da una comunità in particolare di Fremen, che è capeggiata da un certo Stilgar, Xavier Bardem nel film, e diverranno a tutti gli effetti due Fremen. Lady Jessica in particolare diventerà la reverenda madre del Sitch, il Sitch è questa appunto comunità, lei prenderà il posto della vecchia reverenda madre durante un rito, qui non approfondisco troppo. Chiaramente da qui in poi si sviluppa il tema del colonialismo in tema un po' più complesso di quel che potrebbe sembrare a prima vista. Perché chi colonizza chi? Perché da una parte è vero, ci sono questi invasori da fuori che vogliono la spezia, ma poi di fatto, quando vediamo le vicende di Paul e di Jessica, loro poi di fatto vengono inglobati e quindi a loro volta in qualche modo colonizzati da i Fremen. Quindi le cose sono un po' più complesse di quel che si potrebbe pensare e di quel che di solito si dice. Nel Sitch, quindi poi, Paul si innamorerà di Chani, Zendaya nel film, che diverrà la sua compagna e sua fedele alleata. Anche se qui ci sono notevoli differenze in proposito tra il romanzo e il film di Villeneuve, ma ne parleremo più avanti, specie nella seconda parte di questo episodio doppio. I Fremen hanno una propria religione, hanno proprie credenze, tra cui la profezia di un messia, il Lisan al-Gaib, che li guiderà alla liberazione e quindi in teoria gli leverà dalle balle tutti questi invasori che stanno lì per la spezia essenzialmente. Paul, grazie alle sue capacità uniche sviluppate attraverso l'esposizione alla spezia e all'addestramento Bene Gesserit di sua madre, si trova ad adempiere suo malgrado a questa profezia. La narrazione segue la trasformazione di Paul da giovane duca a leader rivoluzionario e figura messianica tra i Fremen. La sua lotta per il controllo di Arrakis e della spezia porta a una profonda riflessione sul potere, sul destino e sulla figura del leader carismatico. Qui aggiungo qualche dettaglio in più perché è importante. Paul inizialmente rifiuta il ruolo di messia perché le visioni che ha, e lui ne avrà sempre più man mano che si addentra nel deserto perché viene sempre più esposto alla spezia, le sue visioni gli dicono che i Fremen, uniti da questa figura messianica, intraprenderanno una jihad, una guerra santa che porterà morte e distruzione in tutto l'universo, non solo su Arrakis. Quindi Paul assolutamente non vuole avere a che fare con questo bagno di sangue. Perché allora accetta e diventa un leader carismatico nonostante lui veda questa figura in maniera negativa e pericolosa soprattutto. Paul finisce per accettare a malincuore il suo ruolo, lo fa in maniera potremmo dire abbastanza stoica, nella purtroppo vana, forse ingenua, speranza di usare la sua posizione di leader per fermare, se non altro frenare, il jihad. Tuttavia, ecco, come dicevo, forse lui pecca un po' di ingenuità, è vero che da una parte magari lo possiamo vedere come una persona che si accolla il proprio destino, lo accetta, però forse c'è dell'ingenuità in tutto questo, un po' di eccesso di ottimismo, perché poi Paul si dovrà scontrare con una realtà molto dura ed è un qualcosa che poi vedremo sempre meglio nella seconda parte dell'episodio. Una volta che la profezia e il jihad si sono messi in moto, non c'è verso di fermarli. Questa è la dura realtà, quindi lui potrà fare ben poco in proposito anche nella sua posizione di leader. È molto interessante questa cosa, Herbert ci ha azzeccato e descrive molto bene queste dinamiche e Villeneuve lo fa secondo me ancora meglio, perché in effetti le cose nella realtà vanno così. Una volta che le credenze si radicano, e accenderemo anche a come si radicano, poi ecco, quelle più perniciose vanno per conto loro, camminano per conto loro ed è molto difficile sradicarle, se non impossibile. E con QAnon le cose sono andate così, è partito un po' diciamo come uno scherzo, una butad su internet, mi sembra su 4chan o 8chan, non mi ricordo bene, uno di quei pizzi lì, una di quelle chiaviche, poi è sfuggita completamente di mano ed ha iniziato a ampliarsi, a camminare per conto proprio, alimentata dagli utenti, fino a episodi molto molto gravi, persone che imboccano in un ristorante, in una pizzeria con un fucile d'assalto, oppure che prendono d'assalto appunto il Campidoglio. Quindi se volete una ricostruzione puntuale e precisa di come si è sviluppato il caso QAnon, c'è un bellissimo libro dei Wuming che fa appunto questa ricostruzione e parla poi del complottismo in generale, della sua storia, i suoi sviluppi e il titolo del libro è La Q di Complotto. Ovviamente non è che, non possiamo assolutamente dire che Herbert sia stato un precursore di queste teorie della cospirazione, il mio discorso è semplicemente che lui ha inquadrato bene determinate dinamiche sociali, determinati modi di pensare su come le credenze si radicano e si sviluppano e queste meccaniche che sono in moto nel romanzo di Herbert noi le possiamo riscontrare purtroppo anche nella vita reale. Dico purtroppo perché alcune di queste dinamiche veramente sono in grado di fare i danni con la pala. Il ruolo di Paul non è visto in maniera positiva, così come la sanguinosa rivoluzione che capeggerà il Jihad. Lui stesso non la vede in maniera positiva e lo vediamo bene in una scena del secondo romanzo, Il Messia di Dune. Vi faccio una breve citazione. Allora, scena, siamo nella sala del trono di Paul che nel frattempo è diventato imperatore e lui parla con altri personaggi e dice Le più recenti statistiche, secondo una stima prudente, dicono che io ne ho sterminati 61 miliardi sterilizzando 90 pianeti e demoralizzandone completamente altri 500. Ho spazzato via i seguaci di 40 religioni che esistevano fin da... infedeli! Protestò Corba. Tutti infedeli! No, disse Paul. Tutti credenti. Il mio signore vuole scherzare, balbettò Corba. Il Jihad ha ricondotto più di 10.000 mondi alla luce del... all'oscurità, disse Paul. Cento generazioni saranno necessarie prima che si riprendano dal Jihad di Muad'Dib. Muad'Dib è il nome che Paul si dà quando viene ammesso tra i Fremen. Continua Paul. È difficile per me immaginare che qualcuno, un giorno, possa superare quanto ho fatto. E poi cita Hitler in proposito. Quindi la figura di Paul non piace nemmeno lo stesso Paul. Alcuni hanno, credo, un po' tralasciato alcuni pezzi del romanzo, hanno travisato alcune parti e si sono lasciati molto infatuare da questo mito rivoluzionario. In maniera, va detto, anche molto... in maniera molto puerile. E a tal proposito, ecco che io vi dicevo il perché Herbert ha sentito la necessità di scrivere il secondo romanzo, Il Messia di Dune. Infatti questo pezzo che vi ho citato è proprio dal secondo romanzo. Però il lato negativo della figura di Paul e della Judd si capisce benissimo anche sul primo romanzo. Tuttavia, evidentemente, ecco, è stato un po' frainteso per vari motivi. Uno è che sicuramente ci sono persone che quando leggono, questa è una cosa molto diffusa, non leggono quello che c'è scritto nel romanzo, quello che ha scritto l'autore, ma pigliano e ci mettono quello che hanno in testa e ignorano pezzi interi di opere. L'altro è che magari quando è uscito il romanzo è uscito su una rivista pulp analog, che è vero aveva soprattutto in passato scrittori di ottima qualità, tra cui Asimov, Highline e altri. Però probabilmente una parte dei lettori di queste riviste erano magari un po' di bocca buona, non troppo propensi a un tipo di fantascienza che è più filosofica e riflessiva. Magari erano più propensi all'avventura e quindi ecco che colgono di più l'aspetto avventuroso del romanzo e si fanno trascinare da questo personaggio di Paul, che all'inizio ovviamente è mosso da istinti di vendetta contro gli Arkonen e contro l'imperatore essenzialmente. Però poi le cose sfuggono di mano, quindi ecco che Herbert ce lo fa vedere sotto un'altra luce parlandoci del pericolo dei leader carismatici. E quindi secondo me c'è stato anche questo fattore, un po' anche l'immaturità di una parte dei lettori e Herbert si è trovato con una schiera di commenti un po' troppo positivi su questa rivoluzione e su questa figura di Paul che lui però aveva descritto in un modo un po' diverso, non in maniera brutalmente esplicita. Ecco, nel secondo romanzo viene proprio esplicitata in maniera molto più spiccia la negatività, gli aspetti negativi di Paul e della Giad. Nel primo bisognava un attimo pensarci o però leggendolo si capisce chiaramente. A questo punto arriviamo alla polemica che ha coinvolto anche i film di Villeneuve e a cui lui ha dovuto rispondere perché è stato accusato dopo il primo film di aver riproposto per l'ennesima volta il tema del Salvatore Bianco, questo schifoso troppo. Allora, che cos'è questo troppo? È un po' quello che si vede in Balla coi lupi, in una certa misura anche in Avatar, anche se Avatar è veramente molto molto banale nella sceneggiatura, quindi non è che propone temi insomma, però questo troppo un pochettino ci sta. Allora, vediamo in questo troppo che c'è un uomo civilizzato, quindi un essere umano civilizzato che viene da fuori in un territorio un po' più primitivo e si aggrega ai nativi, li guida verso la libertà e verso un po' la conoscenza che questo individuo ha. Effettivamente è un tema un po' stantio, ma c'è in Dune? No. Qui credo che ci sia tanta ignoranza a questo punto a distanza di più di 50 anni, quasi di 60 dal romanzo e tanta superficialità, cioè non si legge. Non solo, non si è nemmeno dato il tempo a Villeneuve di sviluppare tutto il tema, perché c'è poco da fare. È vero che c'è parte 1 e parte 2, ma parte 1 è un film tronco, è mezzo film, quindi prima di sperticarsi in giudizi bisognava vedere anche parte 2. Allora, in parte abbiamo ancora lo strascico sulla ricezione originaria del romanzo. All'epoca magari ci poteva stare, oggi però no, tanto più che Herbert già nel secondo romanzo aveva chiarito tutto. Quindi se uno ha letto vuol dire che non ha capito quello che c'è scritto, se dice che Herbert porta avanti il troppo del Salvatore Bianco. Abbiamo visto da quanto ho detto poco fa che, insomma, è tutt'altra cosa. Qui magari si vorrebbe fare l'obiezione, eh sì, ma i Fremen erano visti come arretrati. Questa cosa è parzialmente vera, lo vedremo poi meglio nella seconda parte dell'episodio, ma soprattutto vedremo per bene che questa profezia, in particolare, ma le credenze in generale, non hanno attecchito perché c'è un fondo di arretratezza e di ignoranza. No, non è vero. Le credenze, anche le più assurde, attecchiscono anche in paesi molto avanzati. Infatti vi ho fatto apposta l'esempio di QAnon che è attecchito negli Stati Uniti. Anche qui da noi ne attecchiscono a bizzeffe. L'Italia, peraltro, in prima linea in Europa per quel che riguarda le bufale, le fake e le credenze. Quindi non è vero che se in territorio, in uno stato attecchisce una credenza, allora vuol dire che quella popolazione è arretrata. No. E nell'episodio dedicato al lato oscuro delle storie poi abbiamo visto per bene che anche in fasce di popolazione estremamente istruita possono attecchire le credenze e le bufale più strampalate. Poi c'è un'altra obiezione che vorrei smontare perché l'ho vista scritta in più poste, ad esempio su Reddit, ma te l'ho sentita più volte. È quel che riguarda che sì, Herbert è vero che mette in luce negativa Paul e il Giad, però si suppone che il lettore tifi per Paul. Allora anche qui c'è un grave fraintendimento, tanta ignoranza su come funzionano le storie. E c'è il fraintendimento tra immedesimazione e approvazione. Ci si aspetta sì che il lettore si immedesimi nel protagonista. Un romanzo scritto bene deve fare questa cosa qui. Anche un film ben scritto lo fa e ne abbiamo parlato a lungo a proposito del viaggio dell'eroe e della funzione proprio dell'eroe, cioè del protagonista. Questo però, il fatto che l'opera deve far, o meglio dovrebbe far immedesimare nel protagonista, non vuol dire in automatico che allora ci si aspetta che il lettore approvi tutto ciò che fa il protagonista. Assolutamente no. Pensiamo ad opere con protagonisti più estremi, ad esempio, che ne so, un Hannibal Lecter, la serie tv ad esempio, in cui lui è proprio il protagonista. Alla fine, tutto sommato, lo spettatore arriva quasi a tifare per il dottor Lecter. Non vuole che sia catturato, nonostante sia un individuo assolutamente deplorevole. Ma non vuol dire che se mi immedesimo nel dottor Lecter, mi appassiono alle sue vicissitudini, allora io approvi sistematicamente tutto quello che fa. La stessa cosa per un Tony Soprano o per un Dexter Morgan. Sì, qui c'è magari il tema che una delle cose che fanno le storie è effettivamente puntare direttamente al lato emotivo del lettore e spettatore, bypassano un po' le difese razionali, vanno direttamente alla parte emotiva e quindi magari si può pigliare qualche scivolone, uno si entusiasma troppo per un personaggio che non è uno stinco di santo, però bisogna imparare a fare step out. Cioè, una volta che ci sei immersi in questa grande simulazione che sono le storie, poi quando si chiudono i libri, si spengono le serie tv e i film, poi bisogna uscirne da questa simulazione. L'educazione di un lettore deve anche essere questo, lettore e spettatore. Non faccio differenze come al solito. Quindi, in conclusione, questa lamentela su Ultrop del Salvatore Bianco è fuori luogo e denota veramente molta, molta superficialità. Leggersi il romanzo, prima cosa, e quando i film sono in due parti bisogna guardare tutto e guardare veramente il film, non quello che noi siamo convinti ci sia lì, ma invece è solo nei nostri test. Qui termina questa prima parte dell'episodio. Nella seconda parte, in cui darò per scontata a questo punto l'ambientazione di Dune, parleremo invece per bene del lato oscuro delle storie, delle credenze, di come si formano, di come si radicano, del perché si radicano e del perché è così difficile sradicarle e quindi del perché Paul comunque era un po' destinato a fallire nel suo intento. La seconda parte dell'episodio, come sempre, andrà in onda venerdì prossimo. Nel frattempo, buona lettura e buona visione.